Ciao e benvenuto in questo nuovo video! Oggi scopriremo insieme alcune curiosità davvero interessanti su una razza equilibrata e coraggiosa come l'Ovwart. Prima di iniziare però ricordati di iscriverti al canale e di lasciare un bel like! Ovwart è una razza di origini tedesche e riconosciuta dalla FCI, ovvero una federazione internazionale delle associazioni di allevatori canini. Il suo nome nasce da Wart, che significa guardiano e ova, un termine medievale per dire corte come parte della fattoria. Quindi la traduzione del suo nome è guardiano di corte, che era anche l'uso principale di questo cane. Viene definito una razza di cane selvaggia africana, ma per creare la razza furono usati principalmente Terranova, Leonberger, Pastone tedesco e Kubatz. Questa razza venne riconosciuta ufficialmente nel 1964, alto tra i 63 e 70 cm per i maschi e tra i 58 e 65 cm per le femmine. Mentre per il peso, in questo caso, lo standard non prevede un peso ideale per la razza. L'Owart è un cane da utilità vigoroso e di taglia media. Ha una forma leggermente allungata e a pelo lungo. La differenza tra maschio e femmina è evidente, soprattutto nella conformazione della testa e nella struttura del corpo. Il colore del pelo presenta tre diverse colorazioni, nero focato, nero e biondo. Questa razza è una razza a tutti gli effetti da lavoro con impiego polivalente. Infatti viene usato come cane da guardia, da difesa. Ad oggi viene usato nell'ambito civile come cane da valanga, da catastrofe e da ricerca di persone disperse. Inoltre viene anche usato come cane per persone non vedenti. Infine, anche nell'ambito militare come cane antidroga. Questo è possibile soprattutto per l'addestramento fatto verso questa razza dai tedeschi. In questi anni rendendola una razza davvero ben equilibrata, ma non solo. È anche molto affettuosa, si affeziona la famiglia, ma allo stesso tempo è protettiva e vigile. Con le persone sarà un cane che vorrà condividere ogni secondo della sua vita. Non gli piace rimanere da solo o essere abbandonato anche fuori in giardino. Necessita fin da subito una buona educazione, firma e coerente dal suo padrone, che deve essere equilibrato quanto lui. Enormemente paziente con i bambini, ne diventerà il suo guardiano e difensore. È una razza che apprende con molta facilità, ma va distratto fin da cucciolo e solitamente tollerante con altri animali in casa che considererà parte della famiglia e quindi da proteggere. Non avrà problemi con gli estranei, ma sarà guardingo e attento verso gli altri animali fuori dalla sfera familiare. Lovewort ha bisogno di un'adeguata attività fisica e psichica, ma non c'è nulla che questo cane possa non fare. In questo video hai scoperto le caratteristiche e qualche curiosità su una razza atletica ed eroica come Lovewort. Prima di scegliere il tuo amico a quattro zampe, vi invitiamo caldamente ad informarvi sulla storia e sulle esigenze di questa razza e di rivolgervi ad un addestratore che saprà sicuramente consigliarvi al meglio. Se questo video ti è piaciuto, ricordati di iscriverti al canale e commenta questo video scrivendo la prossima razza che vorresti vedere. Saremo felici di pubblicare altri video sull'argomento. Per oggi è tutto, se hai imparato qualcosa di nuovo e ti è piaciuto questo video lascia un bel mi piace per supportare il canale, iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per restare sempre aggiornato per le prossime pubblicazioni. Da Mondo Cane è tutto, ci vediamo nel prossimo episodio, ciao!